20 anni di protezione civile a Vigevan, un anniversario importante, sono veramente molto contento di essere arrivati a compiere 20 anni per un gruppo che negli anni è sempre migliorato, ha sempre acquisito più competenza, professionalità, ma soprattutto in tutti questi anni ha ottenuto la riconoscenza e la gratitudine di tutti i cittadini vigevanesi, non solo, perché chiaramente si opera anche fuori dalla nostra città ed è ormai entrato nel cuore di tutti i nostri cittadini, per questo voglio veramente ringraziare tutti i volontari della protezione civile per questo grandioso lavoro che hanno fatto negli anni, ringraziare anche tutti i coordinatori che si sono susseguiti in questo gruppo in tutti questi anni e chiaramente questo è solo un punto di partenza e non di arrivo, perché sono convinto che ci si potrà ritagliare ancora grandi soddisfazioni per un gruppo che è sempre più in crescita e che merita la fiducia di tutti noi. Oggi siamo qui a festeggiare i 20 anni del gruppo comunale di protezione civile di Vigevano, è una grande festa a cui partecipano anche gli altri gruppi della provincia di Pavia, partecipano anche altre associazioni, un momento veramente di gioia, un momento dedicato anche ai nostri volontari, perché la protezione civile è fatta di persone, uomini e donne che sottraggono del tempo personale, i propri affetti, spesso alla propria famiglia per dedicarlo al prossimo, un grande esempio di solidarietà. Viva la protezione civile di Vigevano! Festeggiamo oggi il ventenale della protezione civile di Vigevano, sono 20 anni dalla fondazione, 20 anni che ci hanno visto crescere, specializzarsi sempre di più e oggi è una giornata proprio di festa, sono qui tutte le associazioni e i gruppi del Pavese, nonché le amministrazioni, per noi questa è una grande soddisfazione, significa che lavoriamo bene.